Le moderne costruzioni in legno prevedono l'aggiunzione diretta degli elementi portanti in legno con l'acciaio e il cemento armato. Per queste applicazioni abbiamo sviluppato un sistema speciale. Si tratta dei connettori CS. Nella piastra a molla dei connettori CS le viti con filettatura obliqua per l'aggiunzione del legno sono state sostituite da fori ortogonali per i materiali acciaio e cemento armato. L'omologazione prevede in questo caso l'impiego di diversi elementi di giunzione a perno. Si tratta ad esempio di tasselli in metallo a espansione o di viti per calcio e struzzo. La documentazione va approntata come da omologazioni dell'elemento di giunzione utilizzato e adeguata alla capacità di carico dell'elemento in legno. Se la capacità di carico è sufficiente in fase di montaggio basterà rispettare le tolleranze. Grazie a tutti. Grazie a tutti.